Mamma mia che pallaccia rischiosa, e se ne va, Roberto Baggio, Roberto Baggio, e c'è un gol, e ha deciso di portarsi a casa il pallone. Passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente, magnifico. Che gol Fabio, è rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Con tre gol all'attivo è già diventata una di quelle partite che racconterà i nipotini. Gol dopo gol ha acquisito sempre più fiducia e in stato di grazia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.